calcio leao ho l'impressione che sia così per me è un giocatore che ha qualche strappo però è abbastanza in questo per me a me a me se tu mi dici ti piace antonio no non mi piace perché non mi dà niente leao vuole approfittarne il milan leao in area di rigore va sul destro cazzole viene poi quando deve fare 1 2 o quando deve proteggere la palla quando deve fare una giocata per andare verso la porta c'è sempre qualcosa in mano leao il lancio per lui leao accelera leao al centro per giru fa capire l'impressione che è un fenomeno come cammina come si atteggia quando lo sostituisce come se pensando che lui è un fenomeno per me è un giocatore che ha qualche strappo e leao ne ha due di fronte leao entra in area leao sottoporta non mi piace perché non mi dà niente è la ripartenza del milan in maniera più ampia il portoghese che accelera su barack passa in aria leao dentro tonali posso posso dirti una cosa perché tu hai detto che non mi dà niente certo che non capisci proprio un cazzo no no Ciao